Questo video in collaborazione col programma di EA Game Changers di Electronic Arts Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo video sul canale Continua la review dell'undicesima espansione di Sims 4, di Sims 4 vita in campagna Oggi vediamo il quartiere di Hanford Ma prima di lasciare il video ragazzi vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale E farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate Vi ricordo anche che ci vediamo ogni giorno dalla domenica al venerdì In live sul sito Viola alle 21.30 Detto questo vi lascio al video E ragazzi oggi partiamo dagli scenari Abbiamo i tre di base e il nostro Hanford Unbuckley E non vedo l'ora di vederlo, guardate l'animazione e si va subito nel quartiere Hanford Unbuckley è sicuramente un quartiere spaziosissimo È ispirato alla campagna inglese Ci sono tanti lotti ma tanti, tanti spazi vivibili e tanto percorribili È davvero situato in mezzo alle campagne Ci sono dei campi aperti e secondo me come location è perfetta Come tutti gli altri scenari di Sims 4 si divide in tre quartieri E direi di vederli subito Il primo quassù è il Bosco di Bramblewood La bellezza naturale di questo Bosco ha a lungo regalato un luogo pittoresco a tanti conigli, volpi e uccelli selvatici Luogo che è diventato la loro casa Che stia nascondendo una piccola sorpresa sotto Sophie, la lumaca Portando un cavalletto per immortalare la serenità di Cordelia Falls Andando in cerca di funghi selvatici o trovando l'amore tra le rovine dell'isola di Volpe Qualsiasi sim si sentirebbe trasformato dopo un giorno nel Bosco di Bramblewood E non vedo l'ora di andarci Ovviamente le cascate si chiamano Cordelia Falls Dovrebbero essere proprio queste Ci sono delle isolette, ci sono le rovine Ci sono segnati già nella mappa tani di coniglio Guardate un po' una, due E anche la tana degli uccellini Ma in realtà ne vedo tanti a giro Ne vedo un'altra da queste parti Ne vedo un'altra da queste parti Il che ci porta a pensare Che i conigli e gli uccellini Sponeranno in diversi luoghi E questa cosa mi piace Addirittura ragazzi c'è anche un cimitero da questa parte Quindi abbiamo anche un piccolo cimitero a Hanford & Buckley Andiamo al secondo quartierino Ovvero Old New Hanford Una zona che vanta colline ondeggianti Teninte e lussureggianti E un piccolo giardino comunitario Old New Hanford è se forse nota Soprattutto per i suoi storici patimenti toponomastici Inizialmente conosciuto come Little Hanford Il quartiere cambiò il proprio nome in New Hanford Nel tentativo di sfuggire alle proprie origini diminutive Tuttavia trascurando di informare i cartografi nazionali Cessò di esistere ufficialmente per due settimane Quando fu detto loro che il reintrego avrebbe richiesto l'ennesimo cambiamento di nome Gli abitanti scelsero Old New Hanford Che fu preferito a New New Hanford Per un solo voto E anche questo ragazzi è molto molto particolare Un piccolo luogo con un lotto residenziale da costruire 50x40 ragazzi Vi voglio far vedere quanto sono grandi i lotti Abbiamo un 50x40, un 64x64 Abbiamo poi qua un 20x30 Un 50x40 Un 50x40 Proprio perché ragazzi Le fattorie e comunque le stalle necessitano di spazio Quindi ci sta Ma andiamo all'ultimo quartiere di Hanford Ovvero Finchwick Anidato lungo il fiume Buckley L'antico paese del mulino di Finchwick Si effregia della propria comunità unita e operosa La sua storica piazza ospita un pub e chioschi pittoreschi Circondati da un giardino fiorito Perfetti per guardare un po' le vetrine Sia la gente del posto che i turisti Si riversano alla fiera settimanale del paese Dove il sindaco di Finchwick Fa una speciale apparizione Per valutare le proposte E spettacolare Sugli ultimi avvenimenti Qua ragazzi A Finchwick Abbiamo il pub Abbiamo un'altra casa Via Camplebottom Ovviamente residenziale E abbiamo anche La famiglia Scott Qua invece abbiamo Un lotto vuoto Abbiamo Un lotto vuoto Da abitare Viottolo del vecchio mulino Qua invece abbiamo Un nuovo inizio Quindi c'è una famiglia La famiglia Watson Mentre qua abbiamo Viottolo dell'Ortica Ed è un lotto d'affitto Mentre qua abbiamo Moody e McLean E qua abbiamo Il bosco E infine un ultimo lotto Lassù Dove andare a vivere Come vedete Non ci sono tanti abitanti E tante famiglie Il che mi piace Perché ragazzi Gli abitanti di Hanford & Buckley Sono importanti E ve ne parlerò Vedrete quanto è strutturato bene Questo DLC Detto ciò ragazzi Io mi prenderei La nostra simmina E andiamo In giro Per Hanford Così la vediamo Un po' Nei dettagli Ed eccoci arrivati Siamo a New Old Hanford La casetta della simmina In questione È piccolina Molto a tema Ricordo un finile Qua abbiamo anche Un pollaio Che è vuoto E poi vi farò un video Dove vi spiego meglio Come funzionano gli animali Ci sono le volpi Che arrivano Insomma Ce n'è per tutti i gusti E in questo scenario Cosa c'è di bello Sicuramente C'è un fiume Nuotabile Guardate un po' Qua abbiamo Una zona Dove poter fare Picnic Ci sono un sacco di piante Giustamente Da raccogliere Qua invece abbiamo Il giardino Comunitario Guardate un po' Questo è un giardino Comunitario Con il cartello Assolutamente informativo Che è importante C'è la fiera Di Finchwick Quindi vedremo Un po' le fiere Nel dettaglio E gli abitanti Del paese Perché ragazzi Ve l'ho detto Sono molto molto Importanti gli abitanti Qua però abbiamo Un giardinetto Dove si può Comunque coltivare E secondo me È anche comodo Perché visto che lei Si trova a casa sua Se noi prendiamo Quella casa Non c'è bisogno Di fare l'orto Dentro il nostro lotto Lo possiamo fare qua In maniera comunitaria Guardate quanto è bello Il mio gnometto Bellissimo Della cartolina Ce ne sono tanti In realtà Di gnometti Biciclette C'è tutto quello che serve Devo dire che mi piace Oltre Questo piccolo posto Guardate un po' Quante strade Ci sono A Hanford Ve l'ho detto È comunque ispirato Alla campagna inglese Ma soprattutto Uuuuh Prova a stanare Dei conilli Ma soprattutto Ha la sensazione Di campo aperto E il che Ci sta sempre Qua i bambini Possono anche Venire a giocare Qua intanto Abbiamo tanti Spazi comunitari Qua c'è uno stagno Dove si può Assolutamente Pescare Gli anatroccoli Le rane Le libellule C'è tutto quello Che serve E poi qua Oltre i campi Guardate un po' Tutte le strade Vedete i campi Aperti Qua c'è un lotto Da buildare Ma è assolutamente In mezzo al campo Vedete C'è quella sensazione Di campagne Che vanno all'infinito Il che mi piace Ci sono delle cose Da raccogliere Per i collezionisti Il che è buono Qua abbiamo La nostra casetta Qua abbiamo Uno spazio aperto Dove per dire Vedremo Corre e camminare I conigli E le volpi Qua invece abbiamo Dei vecchi Ruderi Se vogliamo Delle case di campagne Abbandonate E il che mi piace Qua invece c'è la strada E poi andando da questa parte Oltre lo stagno Vedete che ci sono un sacco Di salitine Campagnette Zone nascoste Si sale Si sale Si sale Si sale E si arriva Ad altre tenute Questa è bella Bella grande Devo dire Una bellissima casa Guardate un po' Abbiamo tutto quello Che serve Altri campi Aperti con i trattorini Con tutte le cose Particolari Tutte le cose Messe in questo modo Qua invece abbiamo Vedete Ciao Cecilia Sono un promotore Bancario Sono disponibili Tante opportunità Di lavoro Grazie Ah Eeeh Va bene Eeeh No grazie Al momento non faccio lavori Dicevo Ogni Tenuta Perché si parla di tenute Di campagna Come vedete Ha il suo ingresso E il che mi piace E poi C'è questo gioco Di colline Quindi abbiamo Diversi livelli Che assolutamente Mi piace tanto Inutile dire ragazzi Che ho il gioco base E l'espansione In questo momento Ringrazio sempre Electronic Arts Per gli access E giustamente Non abbiamo le stagioni Non abbiamo tutto quello Che effettivamente Abbiamo con gli altri DLC Quindi Non vedo l'ora Di vedere Questo posto innevato Non vedo l'ora Di vederlo Con tutti gli altri DLC Ci sarà da scoprire Intanto Tutti gli abitanti Di Anford Come vedete Vanno in giro Per i campi E questa zona Mi piace tanto Dovremmo averla Vista Credo tutta Sì Ci sono dei campi Belli belli aperti Assolutamente sì Questa zona è bella Bella aperta Guardate un po' Le campagne vanno A perdersi Praticamente Guardate un po' Ci sono solo campagne Davanti a noi A questo punto si va Al secondo quartiere Ovviamente Dopo aver mandato via Gli ospiti Grazie raghi Grazie di esistere Ma scusate Sto in villeggiatura Quindi abbiamo visto Questo quartiere Abbiamo visto il laghetto Abbiamo visto la tenuta Abbiamo visto questo parco A questo punto Andiamo in questa zona E partirei Dall'isola Della volpe Vediamo un po' Cosa succede Quindi si va Ed eccoci arrivati Beh il lotto Dell'isola Della volpe È un vero e proprio Parco Ragazzi Un parco a tema Pieno di cose Da vedere Da raccogliere Molto verde Ragazzi Molto verde Con credo Anche dei segretini Perché in realtà Mi aspetto di trovare Che so Le rane O Delle cose da raccogliere Da scavare A giro Come vedete È bello bello fitto E qua Nelle vicinanze C'è una sim Che sta pescando Qua c'è L'ingresso Della tenuta E qua ragazzi C'è il nostro Bel labirinto Che cos'è Questo labirinto Molto semplice Ci possiamo fare Un selfie Con Sophie La nostra mascotte E soprattutto Questo luogo Ispirato Agli studi Delle electronic cards Che ci sono in America Perché Di fronte Agli studi Della Maxis C'è una sorta Di luogo Fatto in questo modo Una sorta di labirinto Quindi si sono ispirati Andiamo a parlare Con Sophie Sì perché vi devo far vedere Una cosa molto carina La nostra sim Che sta andando Farà tutto il giro Fin quando non arriverà Al centro Potrà fare un selfie Ma potrà anche Cercare sotto La lumaca Guardate un po' Cosa succede La nostra sim Si mette qua A raccogliere qualcosa Sta cercando qualcosa Ora vediamo un po' Cosa ci trova dentro Aspettiamo un attimo Ha trovato un rubino Un arco balestro E quindi abbiamo trovato Delle robette Guardate un po' Due cristalli Ma è finita così? No ragazzi Perché Se noi ci riclicchiamo Possiamo cercare Ancora delle robe Oppure nascondere Un oggetto Dal nostro inventario Quindi Nascondere un nuovo oggetto Per i prossimi sim Quindi noi possiamo Prendere un oggetto Dall'inventario E nasconderlo sotto Sophie E ovviamente Possiamo farci il selfie Ma ve lo faccio vedere Giusto per completezza È molto semplice Vedete che lei si posiziona E c'è la lumaca Là dietro Possiamo fare Un'inquadratura Un po' più particolare Ecco qua il selfie Molto carina come cosa Altra cosa Che però vi devo far vedere È che anche qua ragazzi Ci sono Delle tane di coniglio Col coniglio Eccolo qua Bello Poi ce ne occuperemo Ma anche qua ragazzi Abbiamo un fiume Innuotabile Le cascate Guardate un po' Quanto sono belle Le cascate E guardate Quanti luoghi Si possono percorrere In questa mappa Ve l'ho detto È una mappa Molto molto aperta Possiamo arrivare Fin qui Possiamo anche Salire ancora un po' Credo Vediamo un po' Da qua no Ma abbiamo un sacco Di luoghi Percorribili Un sacco di strade Viuzze Bellissimo Qua abbiamo I cancelli della tenuta E poi qua invece Abbiamo un'altra isola Che ora vedremo Perché è la vita È la vita Senza contare Che tutte queste zone Sono percorribili Un po' La comorevi maniera Ragazzi È davvero Una porzione di mappa Molto molto grande Che nasconde Diverse cose Tipo i coniglietti selvatici Che si trovano a giro Delle zone dove fare Picnic Dei cartelli Informativi Ho visto Ecco qua E degli stanni Minuscoli Dove si può pescare Con le libellule Abbiamo anche Consente alle tartarughe Di scaldarsi al sole Sul tronco Poi vi farò vedere meglio Ecco qua La tartarughina Le anatrine Eccetera Bello Bello E quindi qua Siamo nei pressi Appunto Del nostro labirinto Ma la nostra sim Visto che vi ho fatto vedere Questa zona Ecco qua È contornata dai boschi Ha voglia Di andare In questa di zona Vai qui Guardate un po' E qua ragazzi Abbiamo la casetta Degli uccelli Quindi qua possiamo Fare amicizia con loro Possiamo Raccogliere le rane Ci sono sim che nuotano Nel fiume Altri che pescano E poi qua c'è Una sorta di piccolo Obelisco Antico Dove ci si può sedere E rilassarsi Qua invece ci sono Tutte queste viuzze Molto grandi E percorribili Che dobbiamo capire Dove portano Perché ragazzi È infinito Guardate un po' Qua c'è una casetta Per dire E qua abbiamo Una zona Dove ci si può rilassare Abbiamo un sacco di strade Che poi in realtà Vanno a convergere tutte Da qualche parte E guardate un po' Qua siamo sul fitto del bosco Nel fitto del bosco Che ci conduce A un'altra casa E tanta roba Mi piace Mi piace Il fatto che ci sono Un sacco di viuzze Non tutte percorribili Ma alcune sì E devo dire Mi piace È bello fitto Bello boscoso Bello campagnolo Guardate un po' Poi ci sono dei punti di interesse Per dire Uno per un pittore Sono posti perfetti Per fare delle foto Secondo me Ma oltre a quello Appunto è tutto percorribile E c'è da scoprire Per i collezionisti Insomma C'è un sacco di roba da fare Qua ovviamente È tutto delimitato Da questa parte Qua c'è il fiume Che si può guadare Come abbiamo visto Si può passare sul ponte Ma ragazzi L'isola delle volpi Eccola qua Abbiamo come abbiamo detto L'obelisco Da questa parte E da qua Si può accedere all'isola Da diverse zone Nell'isola ci sono piante Da raccogliere Le rovine Sono queste Guardate un po' La bellezza Di questo posto Ragazzi E all'interno delle rovine Cosa c'è di bello? Beh ragazzi Piante Piante e funghi Importanti Per fare le nostre ricette Quindi in realtà Questo luogo Lo vedremo Credo nel let's play Perché sarà utile Per cucinare Delle robe Fidatevi Qua ci sono delle piante Dei mirtilli Se non erro Delle bacche Che ci serviranno Per fare tutto Quindi sicuramente Lo vedremo E poi qua ci sono anche Delle tane Di coniglio Guardate un po' Molto carino Molto particolare Davvero bello Ovviamente non è editabile Purtroppo Come lotto Quindi non si può modificare Ma va benissimo Così E questa zona Di Enforon Buckley È davvero Tanta roba Mi piace E a questo punto Dobbiamo vedere Solo l'ultima Ovvero Il cuore pulsante Dello scenario La città Di Finchwick Eccoci arrivati Il pub è lui Guardate un po' Molto molto Campagnolo C'è lei Che è la proprietaria Ma proprietaria Del club Ragazzi A che serve Pensateci Qua se noi Per dire Andiamo da loro Lei è Catrina C'è Don Lotario E vabbè Ma se noi Clicchiamo su alcuni Sim iconici Del quartiere Vedremo Che hanno appunto Un nome Proprietaria Del negozio Di alimentari Da questa parte Invece c'è Agnes ovviamente Proprietaria Del negozio Del giardinaggio E perché hanno Queste cose Contrassegnate Perché ragazzi Tutti gli abitanti Di Enford Sono importantissimi Dovremo fare amicizia Con tutti loro Conoscerli E fare davvero Tanta Tanta amicizia Perché saranno loro A darci le quest Ma parleremo Del sistema di quest A breve Intanto ci godiamo La piazza Abbiamo qua davanti Questa piazza Vuota Ma è qui Che esponeranno Ogni sabato In game Le nostre Fiere Sono ben cinque Ve ne parlerò Con calma Quindi il sabato Dobbiamo trovarci qua A fare le fiere E i festival Esponeranno qui Saremo qua Giudicati Dal nostro sindaco Per quanto riguarda Invece la cittadina Vi faccio vedere Come è fatta Beh i nostri Edifici Non sono solo Di default Infatti qua Possiamo cambiarci Abito Guardare le vetrine O scegliere gli abiti Se io chiedo Alla mia sim Di guardare le vetrine Lei si apposterà Davanti alle vetrine E guarderà tutto Uma salve Ecco il sindaco Ciao signora sindaco Eccolo qua La vina La vina E il sindaco Dobbiamo farci amicizia Per sbloccare Delle robe Ma intanto Vedete che la nostra sim Sta guardando le vetrine Qua abbiamo il pozzo centrale Qua abbiamo la zona Dei festival E poi Oltre Possiamo andare Anche in questo luogo È tutto percorribile Qua abbiamo anche Un nuovo spazio comunitario Con i bagnetti Da utilizzare Poi qua È tutto delimitato Ma come vedete Fin qua Abbiamo spazi aperti E poi Qua abbiamo delle zone Dove fare il picnic In città Qua abbiamo delle residenze Vicino Al centro della città Qua abbiamo Delle zone dove ci si può sedere Quindi sono percorribili Insomma Il cuore di Hanford on Buckley È davvero carino Pieno di cose Da vedere Da scavare Da scoprire E soprattutto Il cuore delle fiere Che fidatevi Sono tanta roba I festival Di Hanford on Buckley Sono tanta roba Laggiù C'è il cimitero Ma purtroppo Non è raggiungibile Sto notando Notare le nuove tombe E Però Va bene Di solito ragazzi Poi in realtà Se lo metti generico O comunque Se metti parco Puoi fartelo Il tuo Personale cimitero Su The Sims Vi voglio far vedere Però che qua C'è il mulino ad acqua Funzionante E qua Si può pescare Non si può Credo Nuotare Vediamo un po' Ora ce ne accertiamo Uh invece si Perché questo Ci permette di nuotare Si ragazzi Si può nuotare Anche qui Quindi in tutti i fiumi Di Hanford Si può nuotare Si può pescare E negli stanni No Ovviamente Negli stanni Ci sono altre interazioni Come probabilmente Vi avrò già fatto vedere O vi farò vedere a breve Detto ciò ragazzi Questo era il primo Sguardo a Hanford On Buckley Come vi ho detto I sim Che vedrete Sono importanti Ci dovremmo fare amicizia E vi spiegherò Il motivo Molto Molto Presto Ma per questo video Ragazzi Vi dico Che è tutto Io vi ringrazio Per essere arrivati Fino a questo punto Vi ricordo di lasciare un mi piace Se il video vi è piaciuto E vi ricordo anche Che qua Scrivete e montate il canale Se potete iscrivervi Anche il video consigliato Io come sempre Vi do L'appuntamento Ai prossimi video E in live Sul sito Viola Dalla domenica Al venerdì Ma per il momento Vi dico Ciao a tutti